Stavolta voto le sfide dell'Unione Europea nel 2019. Questo il tema principale della discussione tenutasi questa mattina nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Al dialogo, organizzato in occasione della presentazione delle attività del centro Europe Direct di Napoli, hanno preso parte il primo cittadino Luigi De Magistris e Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Certamente è importante che i cittadini siano pienamente consapevoli e pienamente coinvolti in quello che è il futuro dell'Europa, il dibattito sulle risorse, sul nuovo bilancio, ma soprattutto sulle priorità politiche. Quali sono le priorità che dobbiamo poi tradurre in soldi, opportunità e possibilità di costruire sui territori. Per questo vogliamo lanciare con il Comune di Napoli, con l'Europe Direct, questo grande dibattito in vista delle europee, perché i cittadini abbiano la loro voce e possano dire che cosa vogliono. L'incontro, alla presenza di un gruppo di ragazzi napoletani, ha avuto l'obiettivo di educare i cittadini, soprattutto i più giovani, all'importanza del ruolo delle istituzioni europee, sensibilizzarli a partecipare in prima persona alla vita politica attraverso il voto consapevole e rilanciare il progetto comunitario. Si devono convincere le persone che non si può prescindere dall'Europa, l'Europa è la nostra casa, se non altro da un punto di vista geografico, ma secondo me lo può essere anche dal punto di vista politico, un'Europa che riscopra la voglia di guardare non solo verso l'Atlantico, ma anche verso la Russia, un'Europa solidale, una politica della difesa e degli esteri significativa e un'Europa soprattutto che sappia sconfiggere le disuguaglianze, e sappia unita affrontare la grande sfida dell'ambiente, dei beni comuni e dei cambiamenti climatici. Quindi credo che se l'Europa vuole ripartire deve dare più poteri al Parlamento europeo, più poteri di natura legislativa, di incidere sulle materie più importanti, dovendo se del caso anche andare contro alcuni interessi strategici dei governi nazionali, perché i governi nazionali non portano mai un cambiamento verso l'uguaglianza, la giustizia sociale e i diritti, l'abbiamo visto, e anche la tensione crescente che c'è in molti paesi europei dimostra che questo scollamento è dovuto anche dall'incapacità dei governi nazionali di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee.